Buongiorno ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV sono le 7.30 e siamo in tantissimi davvero tutte le mattine qua davanti alla televisione magari con un buon caffè per ascoltare quelle che sono le notizie del giorno allora tra poco ve le leggerò attraverso i titoli dei quotidiani il Carlino e il Corriere Adriatico prima però ricordiamoci di girare il calendario perché inizia un nuovo mese il mese di dicembre un mese che teoricamente dovrebbe essere un mese di gioia di attesa quella del Natale e vediamo il santo di oggi il santo di oggi è il beato Charles de Foucault c'è un santo beato importante del quale va la pena andare a vedere chi è che cosa ha fatto nella sua vita terrena il sole è sorto alle 7.22 tramonterà alle 16.32 oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso soltanto nell'entroterra con temperature in aumento domani venerdì 2 ancora cielo sereno poco nuvoloso anche se avremo nuvole più compatte nel pomeriggio e nella sera quando potranno dar luogo anche a locali nebbie o foschie le temperature ancora in ulteriore aumento poi sabato 3 invece vedete il tempo peggiora la nuvolosità si fa ancora più importante ci sono precipitazioni lungo la costa sul conero e nell'entroterra le temperature sono stazionarie le massime invece in lieve diminuzione per quanto riguarda i giorni successivi prossimi giorni domenica il cielo sarà nuvoloso con deboli e locali precipitazioni poi ritorneranno condizioni di tempo stabile e soleggiato adesso i giornali dicevo allora i giornali cominciamo dal Corriere Adriatico Corriere Adriatico in apertura la fotonotizia la foto grande è per il premier Matteo Renzi che ieri è arrivato qui nelle Marche da Macerata ad Ancona alla conquista degli indecisi sapete tutti ormai abbiamo la nausea di questo referendum il sì di Renzi è lo spot per le Marche al pala indoor gremito per questo tour il Matteo Renzi il premier dice fate qui le vacanze nel 2017 venite nelle Marche perché tanti sapete scappano sono scappati molti hanno disdetto per paure del terremoto mentre la cronaca locale il titolo d'apertura sull'edizione di Pesaro è per quello che è successo l'altra mattina in un istituto fanese vedono arrivare la polizia e si mangiano gli spinelli guerra aperta ai pusher a coloro che vendono le dosi di marijuana, droghe e quant'altro blitz nelle scuole e nei bar identificati una ventina di studenti questa è la prima pagina del Corriere Adriatico andiamo sulla pagina interna eccola qua vedete la fotografia dei due agenti in azione ieri mattina in una scuola di Fano uno studente che tenta ha tentato di ingerire uno spinello la stessa scena è accaduta poi in un bar della statale è una sorta di offensiva allo spaccio di controlli che sono stati effettuati lo scorso fine settimana proprio per con l'impiego di 12 poliziotti proprio perché gira tanta roba nelle scuole noi forse non ce ne rendiamo conto i professori già qualche cosa di più si immaginano il preside pure ma ne gira davvero tanta questo la polizia lo sa grazie anche certamente alla collaborazione dei professori però ecco c'è ancora tanto da fare un giovane è travolto invece sulle strisce pedonali alla stazione di Fano un ragazzo ha sfondato il parabrezza riportando però e per fortuna solo lievi contusioni è un 22enne che intorno alle 9 e mezzo di ieri mattina pensate anche qui la stupidità di certi automobilisti scusate ma viene da dire insomma quando uno si ferma per far passare una parlavamo di gente che attraversa le strisce pedonali ma dobbiamo parlare anche di quelli che sulle strisce pedonali automobilisti fanno quello che vogliono pensate questo incidente che poteva avere più gravi conseguenze è avvenuto nella maniera peggiore ovvero un automobilista si ferma sulle strisce pedonali per far passare giustamente il pedone il cretinetto che stava dietro cosa ha fatto ha sorpassato l'auto che si era fermata e ha centrato in pieno il pedone che già era metà carreggiata il peggiore delle ipotesi io spero che a questo punto la patente venga presa e stracciata in mille pezzi andiamo adesso invece sull'altra pagina di fanno eccola qua scontro finale fusione aset approvata con un ampio voto favorevole è stato approvato l'altra sera in consiglio comunale il progetto di fusione per incorporazione di aset holding che verrà dunque incorporata in aset servizi hanno votato a favore anche alcune forze politiche di opposizione come le liste civiche la tua fanno e progetto fanno in l'udc contrari invece i 5 stelle e fanno città ideale oltre a Riccardo Severi capogruppo di noi città l'addio ieri a Marco Maggioli ex assessore del comune di Fano sulle notte di un quartetto jazz queste sono le fotografie che pubblica il giornale Corriere Adriatico questa mattina vedete il ferretro, i sacerdoti Don Steven e Don Gabriele la chiesa, l'intervento dell'amico Storoni il quartetto che suona, la banda che suona il jazz insomma questo è quello che è accaduto ieri al Vallato con queste note che hanno salutato l'ex assessore stroncato da una terribile malattia che è la SLA a San Paolo Apostolo al Vallato presenti anche il sindaco Massimo Seri e l'ex Stefano Guzzi sarà sempre con noi, dicono l'amico Paolo Storoni e l'insegnamento di vivere con dignità la malattia e ha detto ciao onorevole andiamo sotto o meglio, nelle altre pagine del Corriere Adriatico dalla Valle del Cesano gioca 2 euro, ne vince 212 mila Mondavio un colpaccio doppio alla ricevitoria di Patrizia Fioretti sono rimasta stecchita, dice lei due schedine uguali e forse dello stesso giocatore da 106 mila euro mai accaduto in Italia davvero, cioè due schedine identiche la vedete qui Patrizia Fioretti nella sua fortunatissima ricevitoria ancora dal Corriere la pagina di Senigallia Mangialardi, il sindaco di Senigallia va in commissione per riferire sull'ispezione che c'è stata in comune il sindaco anticipa la richiesta di Sartini intanto il Consiglio discute il bilancio mano d'opera in nero multati, due calzaturifici stop al lavoro in un'azienda della Cesenella dovrà pagare oltre 23 mila mila euro adesso il resto del Carlino la prima pagina è per la sicurezza sulla strada di fronte sulla Statale 16 di fronte all'Istituto Alberghiero Santa Marta dove qualche settimana fa è morta una studentessa il telelaser arriva sulla Adriatica e finalmente sono stati anche tagliati gli alberi che coprivano l'illuminazione basterà tutto questo basterà per rendere più sicura quel tratto di strada speriamo davvero di sì sotto invece la testata la tragedia di Juliane ha colpito tutti pronti a pagare anche il funerale stiamo parlando di quel bambino nato morto a otto mesi raccolta fondi per i genitori mamma Caterina si commuove a Pesaro sempre la città del Natale bancarelle in via San Francesco le bici sono state prelevate per montare le strutture poi ci sono i numeri del referendum alle urne in provincia 77 mila ci sono anche 47 centenari entriamo nelle pagine interne la cronaca dalla pagina di Fano guardate questa notizia curiosa anche se non altro la cena non è gradita lei gli tira la pentola poi tra marito e moglie spuntano i coltelli i coniugi entrambi sanguinanti sono stati divisi dalla polizia secondo la donna l'uomo era ubriaco ma lui si difende dice questo è tutto falso ha cominciato lei sono arrivati l'allarme è stato dato dai vicini che hanno chiamato il 113 preoccupati dalle urla che provenivano dalla casa beccati con la droga tentano di disfarsene ingoiandola anche qui sono state identificate 72 persone di cui 15 minorenni durante i controlli addio a Maggioli sulle notte del quartetto jazz folla al funerale dell'ex politico hai amato la vita anche quando ti ha girato le spalle raccolte offerte per l'Aisla che è l'associazione che si batte per i diritti in particolare dei malati di Isla di cui è stato presidente referente della regione Marche ospedale il PD sindaco Tifa Chiaruccia l'appello dei consiglieri di Lucchetti e Silvestrini Muraglia penalizza le vallate Barbieri è tra i firmatari del patto di piagge contrario ad un'unica struttura oppure insomma struttura unica furto di fucili e munizioni a San Costanzo sono stati ritrovati in un'abitazione di tra l'altro un immobile abbandonato a Ponterio di Trecastelli in provincia di Ancona questi fucili questi tre fucili erano stati rubati in un'abitazione appunto a San Costanzo il 14 di novembre scorso e sono stati ritrovati l'altra notte l'ultima pagina è da Pesaro primo piano il palazzetto il vecchio palazzetto dello sport lo abbiamo già raccontato ieri invaso da 4.000 persone 4.000 persone invece di 400 perché così tante dovevano starcene invece il comune dice noi non ce l'aspettavamo tutta questa gente insomma è andato alla fine è andato tutto bene però adesso c'è una riflessione interna che si fa tutta interna al comune sul rischio che si è corso ad infilare 4.000 persone senza alcuna copertura di legittimità amministrativa dentro il vecchio palazzetto dello sport sarebbe bastato un qualsiasi piccolo problema racconta un dirigente sportivo che era presente quella serata per creare una situazione di pericolo per tutte quelle persone avete viste nella fotografia per fortuna era tutto bene la rassegna stampa finisce qui Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 vi ricordo il telegiornale questa sera alle 20.30 e vi ricordo anche che per le vostre segnalazioni potete scrivere inviare foto video o testo semplicemente un testo al nostro numero telefonico 338 49 68 250 se avete modo di segnarvelo segnatevelo 338 49 68 250 scrivete Fano TV nella vostra agenda ci trovate su Whatsapp e lì potete interagire con noi grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata storia di